Allora ho registrato da poco il tutorial di questo trucco e adesso mi strucco perché sono le 1 e 20 e è ora di andare a dormire quindi inizio anzitutto per sisservarmi i capelli in modo da avere il viso pulito, quindi non avere schifezzine, non avere i capelli in mezzo e vado intorno agli anelli perché impicciano e mi vado a struccare io utilizzo per struccarmi prima per gli occhi quindi per le parti dove ci sono prodotti un pochino più grassi diciamo, lo struccante bifassico della Pedesystem della Douglas, questo qui e poi su tutto il viso e ripasso di nuovo sugli occhi l'acqua micellare della Sephora, questa qui, zanzana, vai via e poi utilizzo anche il visapour per il tocco finale con il latte di vegetale, innanzitutto do una prima passata senza niente in modo da togliere il grosso, in modo da togliere la prima parte di fondotinta, anzi in questo caso dovevo la BB cream della Kiko, fondotinta, fag, illuminanti vari, prodotti per il contouring, prodotti per le sovraccine, vedrò la prima parte, con la prima parte, con il bifassico di Douglas in modo da togliere lo schifo, io mi trovo molto bene in questo struccante è molto delicato fa il suo lavoro in maniera la trovo egregia non è che stia tirando particolarmente non è velocissimo questo si però comunque io preferisco la delicatezza alla potenza perché comunque avendo degli occhi molto molto delicati preferisco comunque che siano sempre il più protetti possibili e vado a sciacquare la pezzetta perché è impiastricciata tra l'altro avevo anche nel lavandino i pennelli da lavare perché ho utilizzato una decina di pennelli e sono lirci da una sciacquolina alla pezzettina scusate il casino il tutorial di questo trucco non so se l'ho già caricato se lo caricherò prima o dopo anzi questo video comunque lo troverete poi sul canale quando sarà online e vi ricordo di iscrivervi al canale per appunto per rimanere aggiornati e poi a breve dovrei fare anche un giveaway perché abbiamo superato i 2000 iscritti e quindi mi farebbe piacere appunto ringraziarvi con un piccolo giveaway ok e adesso vado con l'acqua micellare questa ho già ricomprata è quasi finita nel senso io comunque toccandomi tutti i giorni mi dura molto però comunque ho già comprato il backup per sicurezza mentre devo comprarla di quello del del bifassico della Douglas se voi ne conoscete un altro distruccante comunque bifassico che toglie anche il trucco waterproof ma che sia estremamente delicato fatemelo sapere perché mi fa sempre carino provare nuovi prodotti magari niente di eccessivamente costruito e vado ad utilizzare il Bisapur e lo utilizzo con il latte detergente XL Large della sempre della Tacas come vedete qui lampeggia rosso qui si vede qui lampeggia rosso perché è quasi finita la batteria vediamo un molto altro schifo toglie no che schifo li ha toglie non così non non riuscire a togliere ok ecco come vedete la pezzettina la come si chiama la spazzolina è sporca perché adesso la sciacquo e potete vedere la differenza è proprio un altro anzi è sbiancata praticamente prendo questa spugnettina ho bagnato qui e vado a togliere i residui di latte detergente un'ultima pulita al viso vado delicatamente anche sugli occhi molto delicatamente è il mito del crimine metto la Dagnic Repair Wear Laser Focus questo qui questo metto a fuoco questo è così all'interno e lo metto sotto gli occhi e lo metto anche su le valpebre visto che ci sono tanto male non fa io non so se seguete chi segue se seguete o meno la musica coreana ma oggi sono rimasta sconvolta quando praticamente ho scoperto che all'inizio di settembre le componenti di un gruppo coreano che seguo le le discode hanno avuto un incidente d'auto e praticamente due delle componenti del gruppo sono morte poverine avevano 22 21 anni non è rimasta amare oggi sto mattina c'è 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 il furgoncino del gruppo si è praticamente ribaltato e sono morte poverine una è morta sul corpo l'altra è morta in ospedale pochi giorni dopo e ho messo su un viso del good skin lab good good skin lab form 365 questo qui che è praticamente un dove la parte in italiano un sero rassolato per il e poi la crema per finire la crema della dark glass beauty system more than moisture multi care cream questa qui che è praticamente la crema che utilizzerò quando ho finito la la crema della hasty loader povera e ne vado a mettere un pochino qualche tempo fa ah no credo che chiamerò questo video os get ready with me per citare ovviamente l'analisi superstar non voglio impadronirmi di nessun copyright di nomi visto che ci si tiene tanto avere il copyright dei nomi dei video qualcuno se ne vanta palesemente ho mettato io video preferito roba del genere e comunque mi chiamerò scatare duimima per per comodità perché non mi vado di cercarmi uno cercare un altro nome e e e non mi ricordo che stavo dicendo no non me lo ricordo quindi ho finito adesso mi vado a mettere il pigiama e poi adesso sotto le pezze come si dice qua prima dovevo lavorare i ponnelli perché sono lirciu e basta al prossimo video ciao no no Grazie.